Presidente Marchesani, eccoci in diretta, si sta per svelare la squadra del 2016, anzitutto GM Europa Ovini, obiettivi per questa stagione? Obiettivi innanzitutto, come noi diciamo già dallo scorso anno, è sempre di ben figurare nelle corse, quindi sposando sempre una linea di ragazzi molto giovani, è quello di fare bene, e magari, visto che lo scorso anno ci ha visti protagonisti assoluti per ben due volte in Francia e in Slovacchia, ecco, almeno di battere, tra virgolette, questo record lo scorso anno e fare meglio nel 2016. Fortin, conferma importante, è il leader indiscusso del team? Assolutamente sì, ormai Fortin è una realtà ben acquisita nella nostra squadra, ormai ha raggiunto comunque la sua immagine di leader, insieme a lui ci saranno Balikin, ci saranno i Pacchiardo, ci saranno i Marquez e tanti altri ragazzi giovani, come Matteo Rotondi, che è maturato bene dallo scorso anno, quindi noi puntiamo sempre su Pippo, ma comunque sia ci sono anche tanti altri che possono fare bene. Si presenta la seconda squadra del patron Gabriele Marchessani, GM Europa Vini, CT Cassani, lo scorso anno è andata molto bene, è un bel progetto. Una squadra partita bene, una squadra che punta sui giovani, una squadra che da l'infa a un territorio che ha sempre dato buoni corridori, e quindi se sono qui è perché comunque credo in questo progetto, è una squadra che dà la possibilità, come dicevo prima, giovani di affacciarsi nel mondo oppressionistico, non dalla porta principale, ma comunque c'è la possibilità per questi corridori di mettersi in evidenza. Grazie.